Questo è un podcast di RaiPlaySound. Ascolta la serie completa di questo podcast su RaiPlaySound.it e scarica l'app. Io ho scritto la mia lettera perché il pubblico possa capire più direttamente i problemi e le angosce, le conseguenze alle quali vanno incontro le persone che sono ricoverate negli ospedali psichiatrici. Io sono stata ricoverata diverse volte. Sono stata ricoverata la prima volta nel 61 a Gorizia. Ero molto depressa e avevo anche delle fissazioni, delle specie di allucinazioni. La prima applicazione di elettroshock non me la ricordo neanche perché mi sono svegliata nella cella chiusa e la prima cosa che mi sono domandata è stato come mi chiamo. Mi sono messo una mano sul petto e ho detto ma io chi sono io? Non mi ricordavo assolutamente più di niente. Una paziente psichiatrica intervistata dalla Rai nel 1967 parla del suo primo ricovero in manicomio nel 1961. Il manicomio è quello di Gorizia ed è lo stesso in cui arriva Franco Basaglia con sua moglie Franca Ongaro e i due figli proprio nello stesso anno. Il ricordo dell'ingresso in manicomio tormenterà Basaglia per anni. Lo ricorda anche Franca Ongaro Basaglia in una intervista che le fa Fabio Isman nel 1988 quando a dieci anni dalla legge 180 la riforma è già sotto attacco e qualcuno rimpiange i manicomi. Insieme e accanto a Franco Basaglia lei ha vissuto tutta la stagione della riforma psichiatrica. La prima volta che è entrata nel manicomio di Gorizia a quell'epoca chiuso e terribile. Che cosa si ricorda? Io mi ricordo che era una ragazza che si chiamava Margherita ed era chiusa in un letto a gabbia e che urlava da sola in un camerone. Io sono Vanessa Roghi e questo è Archivi della Follia, un viaggio nelle tacheraie alla ricerca della storia di Franco Basaglia, della chiusura dei manicomi in Italia, di quello che è accaduto dopo e sta ancora accadendo. Prendi un giovane medico che ha partecipato alla resistenza, colto, di astrazione borghese ma con idee progressiste. Prendilo e mandalo in un manicomio. Gli esiti possibili sono due, ieri come oggi. Diventare parte dell'ingranaggio dell'istituzione o rifiutarla, senza compromessi. La strada che intraprende Basaglia è la seconda. Franca Ongaro racconta questa presa di coscienza. Franco era stato 13 anni in clinica universitaria a Padova ed è passato a dirigere l'ospedale psichiatrico di Gorizia senza avere mai visto un manicomio in precedenza. Il che vuol dire è che a quell'epoca, e probabilmente anche adesso, si poteva laurearsi in medicina, essere specialisti in malattie nervose mentali, essere docenti in psichiatria senza aver mai visto un manicomio. Io credo che la prima spinta proprio al cambiamento totale è stata una spinta, una reazione emotiva di rifiuto, di ribellione all'idea di dover fare soltanto il carceriere. Basaglia non è mai stata in manicomio. Alcune versioni della sua vita dice che quando va a Gorizia per la prima volta da prendere il posto, è la prima volta che vede un manicomio. Dunque è abbastanza incredibile che uno può studiare psichiatria, ma la grande maggioranza dei pazienti che stavano in manicomio sono invisibili a questi che studiavano, no? Il 1961 non è un anno qualsiasi, anche se Franco Basaglia, quando arriva a Gorizia, non può certo saperlo. Il 1961 è l'anno in cui vengono pubblicati tre libri. Tre libri destinati a incidere profondamente sulla storia che sto raccontando. Tre libri che spingono Franco Basaglia e altri della sua generazione a ripensare interamente non solo il proprio ruolo dentro l'ospedale psichiatrico, ma la propria posizione nel mondo, quindi l'idea stessa di follia. Questi tre libri sono I dannati della terra, di Franz Fanon, e poi Asylum, di Erwin Goffman, e Storia della follia, di Michel Foucault. Ne parlo con Vinzia Fiorino. I dannati della terra è un'opera fondamentale, è un libro cult per poi tutta la generazione del 68 per le questioni legate essenzialmente alla decolonizzazione. Il problema è che Fanon, direi lo psichiatra Fanon, così come Goffman, si occupa in maniera specifica di analizzare cosa succede nella mente di coloro che hanno subito discriminazioni a vario titolo e quindi sono stati oggetto di processi di segregazione e di inferiorizzazione. Inoltre nei dannati della terra lui pone una questione fondamentale. Possiamo capire le forme, le espressioni del visaggio a partire dal contesto di provenienza. Quindi io la restituirei così questa sua importante intuizione. La malattia è una piccola cosmologia, un piccolo sistema di segni che va decifrato utilizzando gli strumenti dell'antropologia, dei sistemi culturali che ci danno il significato di quella sofferenza. A Foucault non basta più il concetto puro di repressione per spiegare i meccanismi che moltiplicano la separatezza, l'emarginazione, la segregazione. Lo racconta Rossana Rossanda, intellettuale e giornalista, fondatrice del quotidiano Il Manifesto che la RAI invita nel 1985 a ripercorrere la storia dei libri che hanno fornito l'immaginario al decennio precedente. Grande è il disordine sotto il cielo. Idee e libri degli anni settanta ripercorsi da Rossana Rossanda. Regia di Ida Bassignano. Sesta puntata. Sorvegliati e puniti. Il pensatore assonante a questo clima degli anni settanta sarà perciò Michel Foucault l'analista dei poteri, poteri come Stato, come istituzioni, come discorso, cioè interiorizzazione e cultura, parole che diventano cose, fatti, lacci, legami. Questi poteri segregano, separano chi non li fa suoi. Come se la società si modernizzasse cessando di fare del colpevole, dell'incolpato il protagonista di un supplizio che era anche un grande spettacolo popolare in cui egli era ancora un uomo e veniva. Occorre insomma nasconderla la follia, tenerla nascosta, tenere nascosto il supplizio. Vinzia Fiorino riprende Rossana Rossanda e approfondisce questo concetto. Rossana Rossanda riprendendo uno studio importantissimo di Michel Foucault che è la storia della follia in età classica, riprende ed evidenzia il valore fondante della segregazione nel progetto terapeutico della psichiatria ufficiale e istituzionale. Non possiamo che dargli ragione, sottolineerei un elemento. La nuova psichiatria, così come tutti coloro che controllavano i soggetti internati, a differenza del passato, quindi a differenza dell'età moderna, nell'età contemporanea, si impadroniscono dei corpi dei malati. Ma perché se ne impadroniscono e perché devono gestirlo? Perché l'idea è quella secondo la quale impossessarsi del corpo, attraverso il corpo, attraverso una nuova gestione del corpo, si arriva a rimettere appunto l'anima, cioè si rimette a curare l'anima e quindi nell'età contemporanea a curare la psiche. Ciò su cui dobbiamo riflettere, ciò da cui dobbiamo difenderci, dice Foucault, non è la prigione, bensì tutta la tecnologia del potere sul corpo. Ciò da cui dobbiamo difenderci è l'istituzionalizzazione. Ce ne parla Ilaria Lafata. L'istituzionalizzazione, è una parola lunga e complessa, ma in realtà dice una cosa apparentemente semplice. Dice che quando arrivi in manicomio, indipendentemente dai motivi per cui sei stato ricoverato, in alcuni casi la permanenza dentro al manicomio ti fa ammalare, ti fa ammalare di manicomio. È una malattia che viene, diciamo, codificata, se possiamo dire così, alla fine degli anni 50 e quando Goffman, Erwin Goffman, l'autore delle istituzioni totali di Asylums, inizia a pensare che nelle istituzioni totali il tuo tempo non è più a tua disposizione, ma è sempre delegato il tuo tempo, i tuoi spazi, la tua vita. Deve sempre sottostare a tempi, spazi, ritmi, gestiti e diretti da altri. Allora questo modo di vivere sempre condizionato e subordinato a qualcun altro ti porta ad annullarti completamente. Londra, agosto 1964. Primo congresso internazionale di psichiatria sociale. Al centro della discussione le pratiche di comunità terapeutica che Maxwell Jones sta portando avanti in Scozia, nell'ospedale psichiatrico di Dingleton. Il primo manicomio a porte aperte, dove le assemblee fra medici, infermieri e pazienti diventano una pratica terapeutica. Che cosa accade a Dingleton lo racconta John Foote. Dingleton era un manicomio in campagna in Scozia e lì c'è stato, grazie a questo psichiatra che si chiamava Maxwell Jones, un esperimento di aprire, uno dei primi esperimenti, di aprire il manicomio all'esterno, ma anche di parlare con i pazienti, di avere incontri, assemblee dentro il manicomio, di aprire anche dentro, di non avere riparti chiusi a chiave. Pasali ha sentito parlare di questo posto, è andato lì, ha anche dato Franco Ongoros, ha mandato anche altre equip di Gorizia per vedere. Lui quando arriva a Gorizia non sa cosa fare, non ha un piano. Lui sa che questo posto fa schifo e va cambiato, ma non sa esattamente cosa fare perché non è mai stato, non aveva mai avuto questa responsabilità. Quindi cerca dei esempi. Uno degli esempi è Dingleton. Lui prende certe cose da Dingleton, certe cose tipo l'assemblea poi diventa più radicale nella sua visione. Lui va a Londra nel 64 per un convegno, in una scuola nel nord di Londra c'è un convegno sulla psichiatria sociale e lui fa un paper nel suo pessimo inglese dove dice, è un paper famoso, è un famosissimo intervento che legge questo intervento in inglese e si dice che molti non hanno capito niente di quello che diceva perché su inglese, ha detto anche suo figlio, era pessimo. Lui fa questo paper che è molto radicale anche per i psichiatri sociali di allora perché lui dice non possiamo riformare questo posto, non possiamo cambiare, possiamo fare quello come un primo approccio, però in fondo questo posto è un posto di violenza, è un posto di esclusione e va distrutto, va abolito. A quel momento nella psichiatria non c'è nessuno, non c'è quasi nessuno che dice questo. Gli inglesi non dicono questo, gli francesi non dicono questo, loro dicono che si può tenere l'istituzione e cambiarlo dentro, cambiarlo, farlo diventare un buon manicomio. Lui no, dice alla fine bisogna distruggerlo, intanto lavoriamo verso quel fine. Il manicomio non va migliorato, il manicomio va chiuso, la violenza istituzionale va abolita, ne parlo con Tommaso Losavio, che entra in manicomio come giovane medico nel 1969. La violenza istituzionale è la privazione di qualsiasi dirizzo, in cui l'istituzione si fa istituzione totale, ha le sue regole e chi non si confà alle regole istituzionali viene punito, viene punito anche severamente. Quindi non solo c'è la privazione di qualsiasi diritto personale, ma è più alimentare quello di non avere nessun effetto personale, per esempio, di non avere nessuna voce in capitolo. I pazienti psichiatrici erano privati, internati definitivamente, erano privati dei diritti civili, non potevano votare, non potevano avere passaporto, venivano privati della patria potestà. Non solo la privazione di questi diritti, ma anche la violenza esercitata sul corpo di queste persone. C'erano persone legate al letto da anni. Io ho trovato persone legate al letto con piaghe da decubito cui si vedeva l'osso sacro. Adesso voglio uscire dall'ospedale psichiatrico e vedere cosa sta accadendo in Italia nei primi anni Sessanta. Perché non mi fido delle storie che isolano gli eroi, che li raccontano come cavalieri solitari. Ogni biografia è una biografia collettiva e nessuno da solo può fare la rivoluzione. Allora voglio allargare lo sguardo e abbracciare il tempo in cui Franco Basaglia si trova ad operare. E voglio farlo a partire da un'espressione, disgelo costituzionale. Gli storici la usano per riferirsi a quanto accade in Italia in questi anni. A poco a poco la Costituzione congelata negli anni 50 inizia a irrorare di sé la vita di tutti, anche di chi è da sempre ai margini della vita civile, anche quella democratica. Il paese ha conosciuto una grande trasformazione dovuta al boom economico e all'emigrazione interna, che ha posto migliaia di italiani di fronte all'ingiustizia di una società ricca fondata sul lavoro dei poveri, trattati come bestie, nei quartieri dormitorio delle grandi città del nord. Il movimento sindacale inizia a prendere forza e Aldo Moro, figura di spicco della democrazia cristiana, decide che è tempo di inglobare anche il partito socialista al governo. Il conflitto va governato, non represso. Una incipiente ed appena accennata volontaria innovatrice fattasi avanti nel paese a partire dal 1960 sul nuovo corso delle cose. E appunto a questa esigenza profonda che un governo di centro-sinistra, organicamente concepito, vuole dare una risposta adeguata e che essa sia in effetti. I governi di centro-sinistra, così si chiamerà la formula ideata da Moro, sono tre, fra il 1963 e il 1968. Nel 1964 al Ministero della Sanità viene chiamato il socialista Luigi Mariotti e tutto inizia a cambiare. Dentro le mura degli ospedali psichiatrici italiani sono rinchiusi 150.000 malati. In Italia la legge sui manicomi è vecchia di oltre 60 anni. Già nel 1911 fu definita iniqua ed antiquata. Questa legge, ancora oggi in vigore, considera gli ammalati di mente quasi come se fossero dei carcerati, pericolosi e soprattutto inguaribili. In molti casi ci si difende da questi ammalati come da nemici, invece di combattere una malattia dalla quale si può guarire. Tuttavia la legge antiquata non è l'unico grave problema. Mancano i medici, gli infermieri specializzati, mancano 40.000 posti letto, le cure sono spesso inadeguate. Mariotti fa redigere un libro bianco sulla sanità, dal quale emerge, come su 90 province italiane, 29 siano sprovviste di ospedali psichiatrici. In Valle d'Aosta e Basilicata non ce n'è nemmeno uno. Ne deriva una vera e propria emigrazione sanitaria su base coatta, perché i ricoverati sono spediti fuori dalle province o dalle regioni contro la loro volontà. Lo racconta nel 1965 lo psichiatra Giuseppe Aschieri, che dirige l'ospedale di Varese, in una intervista dove mette in luce cosa si nasconda spesso dietro la difesa del manicomio. Professore, se ho capito bene quindi, tra una provincia e l'altra, avviene spesso una sorta di triste emigrazione di ammalati mentali. Sì, migrazione che qualcuno ha chiamato appalto dei malati mentali. Appalto dei malati mentali in che senso? Nel senso che, oltre alle difficoltà e ai disagi di un ricovero effettuato a distanza talvolta di 300-400 km, oltre all'impossibilità da parte dei parenti di visitare i loro cari ogni qualvolta lo desiderano, rimane il fatto che le province che esportano i malati versano una certa somma per ogni ammalato. giornaliera. Ora può sorgere il sospetto che la provincia ospitante o delegata non spenda tutta o quasi tutta questa somma a sua disposizione, ma possa lesinare su questa somma e trarne un utile riducendo le spese necessarie per l'assistenza e la cura dei malati mentali. Cioè, chi ospita si trasformerebbe in una specie di albergatore? Precisamente. Ecco, quindi avrebbe interesse a tenere più possibili clienti paganti? Precisamente, ma col grave inconveniente che facendo così si ha la cronicizzazione dei malati. Le accuse alla gestione dei manicomi non si contano. Sui giornali, alla radio, in televisione. Dentro le mura degli ospedali psichiatrici italiani sono rinchiusi 150.000 malati, ma mancano i medici, gli infermieri specializzati, mancano 40.000 posti letto e le cure sono spesso inadeguate. La legge che li regola del resto, ricordiamolo, risale al 1904. Ilaria Lafata mi spiega come il tempo in manicomio si sia di fatto fermato. Beh, dal 1904, in realtà potremmo dire dal 1873, la vita in manicomio non cambia. Cambiano i direttori che restano per più o meno tempo, ma, e quindi magari sono a volte più illuminati, a volte meno illuminati, la struttura rimane la stessa, la struttura profonda del manicomio rimane la stessa. Nel senso che la gestione dei ricoverati e delle ricoverate è sempre uguale. Sì, cosa può cambiare? Forse che c'è meno camicia di forza e ci sono più psicofarmaci dopo gli anni 50, ma il concetto di legare, di contenere le persone è sempre lo stesso. Il momento di svolta sono proprio gli anni 60, quando si fa largo anche una nuova società e ci sono nuove istanze esterne che cominciano letteralmente a bussare alla porta del manicomio. Ma fino agli anni 60 la struttura manicomiale, l'impianto del manicomio rimane sempre lo stesso. Da questo punto di vista i tempi della storia, quella con la S maiuscola, incidono molto poco. possono aumentare o diminuire, casomai, i ricoverati, però il manicomio resta proprio una cittadella chiusa, chiusa e quasi impermeabile ai cambiamenti esterni. E lo rimane fino appunto a quando è un po' la società che inizia ad accorgersi, la società civile, alcuni studiosi, alcuni studenti che iniziano ad accorgersi che c'è una presenza ingombrante in provincia e che forse bisogna cominciare a guardarci dentro. Ma chi può entrare in manicomio? Chi vi lavora? Infermieri, cuoche, personale vario, medici, ovviamente, e ammalati. E poi i responsabili delle amministrazioni provinciali, che fino ad ora però non hanno brillato di spirito di iniziativa. I manicomi sono anche realtà economiche importanti e cambiare il loro funzionamento non è affatto facile. Nel solo manicomio di Colorno, distante pochi chilometri da Parma, lavorano infatti più di 3.000 persone. Ma con le elezioni amministrative del 1965 arriva in provincia uno strano assessore. Si chiama Mario Tommasini, è un ex partigiano, fa il letturista dell'azienda del gas e riceve la delega per i trasporti e l'ospedale psichiatrico. La sua è una figura luminosa in questa storia buia. Me la raccontano lo storico Valerio Cervetti e Mariella Saccani, presidente della Fondazione Tommasini di Parma. Sono andata a trovarli nella sede della Fondazione, una bella villa in campagna lungo la ferrovia. Buongiorno Marcella. Sono Valerio Cervetti, attualmente pensionato e sono stato direttore delle biblioteche e degli archivi del Comune di Parma. Mario Tommasini viene eletto nel 1964 come consigliere provinciale e poi all'inizio del 1965, quando si forma la nuova giunta, viene chiamato a guidare il settore trasporti e l'ospedale psichiatrico, il che può suonare abbastanza stravagante, ma questo a volte nelle deleghe della provincia poteva accadere perché la provincia era un po' più raccogliticia, per esempio rispetto all'attività specifica di un'amministrazione comunale, quindi era un po' più ampia. Comunque è vero quello che corrisponde alla verità, diciamo che Tommasini con la sua 500 si prende su da Parma, va al manicomio di Colorno e trova questa realtà sconvolgente. lui proprio ne parla, era un carnaio, ecco questa è la parola con cui lui definisce il lager che trova in quella realtà. Arriva a Colorno e il giorno che rientra, alla sera, in lacrime e con la febbre, pensa di mettersi da questo incarico. Poi scatta in lui un'altra riflessione, che vuol dire no, questa gente non la posso abbandonare, non posso abbandonare queste donne che non sembrano donne, donne che hanno fogli di giornali per quando sono mestruate, bambini coricati per terra che cercano di mangiare quelli che sono gli avanzi del cibo degli altri, bambini con diagnosi a sei anni o addirittura anche meno di pericolosità per sé e per gli altri. Mario comincia un'opera di grande trasformazione partendo anche dalle cose più semplici, più dirette. E poi è un uomo che pensa oltre, perché quando sente che c'è qualche obiezione alle sue considerazioni, cosa ha inventato? Sente il cibo che viene distribuito a questa gente e dice che era una cosa da pelle d'oca. Allora invita tutti i notabili della città, gli amministratori della provincia, a un pranzo, si presentano tutti e gli fa servire quello che viene dato tutti i giorni ai malati. Ovviamente il ribrezzo, lo schifo e il fatto che tutti lasciano lì, dice ecco questo è quello che viene dato tutti i giorni ai malati. Allora sono queste piccole cose da cui lui parte, il vestiario, il mangiare, il cibo, le relazioni, la socialità. Piccole cose. Mentre trascrivo l'intervista ripenso a quello che mi ha detto Tommaso Losavio parlando del suo ingresso in manicomio. Anche lui ha parlato di piccole cose. Quello che colpiva all'interno del manicomio di Rieti non era la malattia, era la gente ammucchiata, era la separazione, era la violenza, era il non rispetto delle norme più elementari del corpo, delle persone, come dire, era lo squallore dei locali. Questo era quello che mi colpiva. Era come possibile, pensavo, come può essere possibile prendersi cura delle persone in una situazione come questa. Quindi, le prime cose che ho cercato di fare con l'aiuto di alcuni infermieri e dipingere i locali, era prendermi cura del corpo di queste persone, restituirli i vestiti, cioè delle cose che sembravano banali, ma che in realtà, e poi sono le cose che nel lavoro ulteriore mi hanno sempre guidato, erano le piccole cose che sono apparentemente non importanti rispetto alla grande cultura psichiatrica, ma le piccole cose di ogni giorno che in realtà permettevano dei cambiamenti incredibili. Piccole cose, come quelle che a Gorizia cerca di fare Franco Basaglia, aprire i reparti chiusi, dare la parola ai pazienti nelle assemblee. La Montessori dei Matti, scrive il settimanale L'Espresso, e grazie all'attenzione della stampa nel 1966 anche la TV invita Basaglia e questo è il suo primo intervento per la RAI. Lei crede nella malattia mentale, nell'esistenza della malattia mentale? Ma io direi sono un medico, curo dei malati, e non so perché non dovrebbe esistere la malattia mentale. Io penso che la malattia mentale ha la sua dignità di esistenza, come tutte le altre malattie. il fatto è che i malati mentali non hanno dignità di esistenza. Il problema è questo, che la malattia mentale, come tutte le altre malattie, direi che hanno un aspetto duplice. Non è importante quello che è la malattia, qualunque malattia, ma quello che ne viene fatto della malattia. capisce? Le basta che vedono gli ospedali psichiatrici. Se i malati in questi ospedali sono malati, sono ridotti a prigionieri. E scontano una condanna che non sanno. Senta professore, a proposito degli ospedali psichiatrici, spesso dentro l'ospedale il malato non guarisce e fuori spesso diventa pericoloso. Che cosa fare? Ecco, vedi, io mi aggancio a quello che dicevo prima. Nell'ospedale psichiatrico non si cura la malattia, ma si cura quello che è stato prodotto della malattia, cioè la malattia da ospedale, quello che noi chiamiamo l'istituzione di rinnovazione. Il malato quando entra in ospedale è un uomo. Qualche tempo dopo diventa una cosa, una cosa così mortificata e violentata dall'ospedale, dall'istituzione, dalla regola dell'istituzione. E quindi si distrugge il malato e quindi si cristallizza il malato nella sua stessa ideologia falsa di malattia. Capisci? Quindi noi nell'ospedale psichiatrico curiamo un malato che non c'è più, non perché non abbia la malattia, non so se è chiaro quello che voglio dire. Professore, che importanza hanno gli psicofarmaci nella terapia delle malattie mentali? Io penso che gli psicofarmaci sono un ausilio piuttosto importante nella cura delle malattie mentali, ma vede come tutte le cose, anche i psicofarmaci hanno due facce. Una faccia diciamo così terapeutica, quando questi farmaci si possono usare nella maniera giusta, nella maniera diciamo così terapeutica e una faccia violenta. Lei si avrà visto gli ospedali psichiatrici e avrà visto delle persone così un po' immobilizzate, stupidite, caricate di psicofarmaci. In questo modo noi usiamo i psicofarmaci come medio di violenza, di mortificazione ancora una volta. Cioè costringiamo il malato non con la camicia di forza, ma costringiamo il malato con una camicia di forza chimica. Ecco, allora direi che qui ci sono le due facce dei psicofarmaci come le due facce di ogni terapia. Lei dice spesso, ripete spesso questa frase che un paziente prima di guarire deve imparare ad essere uomo. Che cosa significa? Ma deve imparare ad essere uomo assieme ad altri uomini. Ma vede prima che il malato impari ad essere uomo bisogna che imparino ad essere uomo sia il medico che l'infermiere e che corrono il malato. Allora soltanto il malato diventerà un uomo. Parole che infiammeranno una generazione. Ma prima di parlare di questo, di come la ricerca di Franco Basaglia alimenterà anche il movimento degli studenti nel 68, torniamo sulle sue parole. Possiamo pretendere che il malato sia un uomo e gli altri siano i suoi carcerieri perché altrimenti questo malato non può mai diventare un uomo. diventare un uomo e una donna e un bambino perché il manicomio non guarda in faccia a nessuno e c'è chi là dentro viene rinchiuso fin dalla nascita. Ma di questo parlerò nel prossimo episodio. Archivi della follia in cerca di Franco Basaglia è un podcast Rai Play Sound scritto e realizzato da Vanessa Roghi direzione artistica Andrea Borgnino producer Luca Franco mix and sound designer Alfredo Morana editor Alexandra Gensini e Paola Manduca musiche originali Frederic Ren Rai Play Sound podcast audio libri e radio live ascolta la serie completa di questo podcast su raiplaysound.it e scarica l'app a a a a a Grazie.